bentornati ragazzi sul canale di giochi next gen siamo qui con PES 2016 e ho avuto in regalo siccome domenica ci sarà il derby di milano tra milan e inter mi hanno dato grazie all'universal edition la possibilità di trovare uno dei giocatori di una delle due squadre vedete derby di milano iro sottanta più con il pallone nero vedete 100% di possibilità quindi voglio andare a vedere insieme a voi chi troverò che ragazzi eccoci qua andiamo subito a vedere chi troverò di tra un giocatore tra milan e inter ok stoppiamo ora vediamo un po' attenzione vediamo chi è chi è ragazzi chi è chi sei mattia destro mattia destro bologna fc e quindi ok abbiamo trovato mattia adesso ragazzi un buon attaccante da aggiungere alla rosa mi aspettavo qualcosa di meglio comunque va bene anche lui ragazzi io direi di fare un altro ball opening visto che c'è questo appunto derby di milano iro s e abbiamo il 40 per cento di possibilità di parole nero o il 44 per cento di quello dorato quindi direi di fare un altro ball opening e poi andiamo alla partita del giorno ragazzi eccoci qui nel ball opening devo cercare di beccare un pallone nero non sarà per nulla facile vediamo un po' no di uno solo peccato vediamo chi è il giocatore che ho trovato attenzione chi sei silvestre ok ragazzi della sampdoria silvestre un buon difensore niente di che però terò come sostituto di terry ogodino che ragazzi ci vediamo fra poco quindi con la partita nel my club ragazzi eccoci giunti alla partita di oggi siamo contro l'avversario che ha una formazione veramente veramente molto forte ho visto i brennici manzuki cd bala dani alves roberto carlos tiago morta e non so chi altro nel frattempo ha messo già in pausa quindi vediamo che cosa accadrà in questa partita attenzione qua che lui se ne va via con paolo di bala e cia zlatan in avanti attenzione palla che rimane di gol subito ragazzi in svantaggio attenzione qua zlatan miracolo pallone dentro young miracolo del suo portiere per pallone messo fuori ma proverà sicuramente a crossare in mezzo per i braimovic ormai si è capito che palo è ragazzi non le ali non so che tipo di prata abbia fatto sulla fascia soffro ancora il pallone dentro c'è il gol attenzione qua young velocissimo young dentro se ne va via kaisedo kaisedo attenzione c'è il gol accorciamo le distanze 2 a 1 pallonetto di kaisedo bellissimo gol ma perché godin sti interventi di merda kaisedo dentro per lewandowski lewandowski è tutto solo il tiro parata ancora lewandowski pareggio due pari arrivano al pareggio in pochissimo tempo abbiamo rimesso su anche questa partita incredibile kaisedo baggio anticipato lewandowski è uno due bellissimo lewandowski lewandowski è tutto solo lewandowski al tiro lewandowski gol 3 a 2 3 a 2 abbiamo ribaltato tutto 3 a 2 incredibile il volante di giochi next gen non è muore mai ragazzi non muore mai attenzione però qua ora con i bra e c'è l'esterno della rete si è divorato il gol dentro per lewandowski anticipato ma sbaglia sbaglia tutto sbaglia tutto sbaglia tutto lewandowski al tuo gol 4 a 2 con tutta la calma robert lewandowski la piazza ottantesimo abbiamo ribaltato tutto noo erroraccio qua e c'è 4 a 3 erroraccio sono più lenti di due bradipi i difensori centrali ragazzi sono più lenti di due bradipi veramente pallone messo dentro pareggio non ci posso credere ragazzi l'am non si è fatto anticipare quattro pari nulla da fare e finisce così altro pareggio ragazzi quattro pari in questa divisione non riesco né a vincere né a perdere ok ragazzi ci vediamo con la seconda partita del giorno perché ragazzi eccoci giunti nella seconda partita di oggi speriamo di riuscire a vincere almeno questa mi basta un punto per salvarmi robert lewandowski ruba palla lewandowski lewandowski se ne va ha rubato palla robert lewandowski gol subito 1 a 0 robert lewandowski dopo aver rubato palla guardate qui il roraccio dell'avversario 1 a 0 ragazzi io qui non riuscivo più neanche a controllare attenzione qua è solo e per fortuna sbaglia attenzione qua grande mattia destro si libera mattia destro al tiro fuori di pochissimo si era liberato benissimo attenzione qua fermato lewandowski ma ancora pallone dentro erroraccio per il grandissimo gol di robert lewandowski 2 a 0 doppietta di robert lewandowski no ma perché no ragazzi ma non è possibile ma non è possibile questo 2 a 1 il difensore mi ha fatto da solo un intervento bel pallone per carmona che la dà dentro per mattia destro al tiro destro gol 3 a 1 mattia destro il nuovo acquisto 3 a 1 grande mattia destro philipp lam philipp lam e lui ancora philipp lam dentro pallone per destra che non ci arriva di pochissimo attenzione qua se ne va a destra fuori incredibile cosa si è divorato diamo il tiro di alaba ha fatto buttare anche il mio difensore che si è buttato a tuffo d'angelo samaras per neymar buttato giù non ha dato fallo incredibile anche qui gomitata e c'è il gol da 3 a 2 ragazzi ma l'arbitraggio non esiste su pass non esiste arbitraggio samaras fermato molto lento no ragazzi no ma non ci posso credere no ragazzi ma che sono ste cose dai ragazzi ma veramente ma stiamo scherzando ma che sono ste puttanate che ragazzi finita tre pari la partita come al solito però sono molto deluso e molto arrabbiato ragazzi sinceramente perché così no cioè prendere gol in quella maniera veramente cioè proprio non so neanche come dirvelo una maniera veramente schifosa veramente in una maniera roccambolesca irreale ecco la parola giusta non mi va comunque ragazzi con questo pareggio ci siamo salvati cioè io ho fatto 4 pareggi non so quante sconfitte mi sa 4 o 3 sconfitte e 2 volte sono anzi 3 volte scusate sono caduto durante la partita e quindi mi ha dato la sconfitta anche se in realtà io non stavo perdendo comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è così commentate lasciate like condividete iscrivetevi al canale se non avete fatto qui da un giorno dell'83 tutto ci vediamo al prossimo video bella